buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a vediamoci chiaro oggi parliamo dei fondi di pensione previdenziale la previdenza complementare direte che cos'è è fondamentale ricordatevi queste parole e lo diciamo non solo ai più giovani ma anche le persone di una certa età e soprattutto mi appello alle nonne che sono a casa perché spesso le giovani generazioni sono disattenti su questo punto invece ascoltate la puntata e poi dite ai vostri nipoti quanto è fondamentale avere il secondo pilastro oltre alla pensione che percepiranno ci vorrà un secondo pilastro per avere un assegno previdenziale adeguato alle esigenze di vita ne parleremo con il nostro ospite che ringrazio il segretario confederale della cisl ignazio ganga che anche vicepresidente nazionale di assofondi pensione come sempre domande in diretta maris qui e allora scriveteci partecipata alla diretta mandando un messaggio tramite ad esempio il nostro numero whatsapp quindi memorizzatelo e scrivete al 3 4 0 8 8 0 10 35 vi ricordo anche la nostra mail vediamoci chiaro chiocciolatv2000.it se preferite se siete in giro e ci state seguendo tramite l'app potete scriverci anche su facebook instagram ed x e allora iniziamo a spiegare segretario che cosa sono questi fondi pensione soprattutto di che cosa parliamo parliamo di quello che una volta si chiamava liquidazione no in qualche modo che veniva tenuto in azienda uno andava in pensione si prendeva questi soldi ancora è possibile però sono nati questi fondi pensione che sono qualcosa di importante che cosa sono se ce lo puoi proprio descrivere brevemente ma la riflessione nacque nel momento in cui si prendeva atto che il tasso di sostituzione vale a dire l'equivalente del primo ratio di pensione rispetto alla tua ultima retribuzione era era più basso e soprattutto con l'innalzarsi dei costi della vita la pensione non bastava più e come tale andava necessariamente integrata e andava individuata una soluzione che integrasse il trattamento previdenziale tradizionale quello che noi definiamo di primo pilastro e quindi si pensò a un secondo pilastro previdenziale stavolta un pilastro previdenziale direttamente costruito dal lavoratore e dal datore di lavoro perché c'è un contributo importante da parte del datore di lavoro che fosse complementare alla pensione e che la integrasse in maniera tale che il quiescente quindi lavoratore non più in produzione potesse avere un trattamento previdenziale tra primo e secondo pilastro adeguato al costo della vita quindi noi parleremo ci soffermeremo soprattutto sui fondi pensione negoziali che sono quelli tutte le categorie qualsiasi lavoro si faccia c'è un fondo pensione negoziale le chiedo a che età è possibile aderire cioè io lavoro a qualsiasi età se c'ho 30 anni ma se non ci sono anche 56 57 si può sempre aderire si è naturale che prima inizi meglio è perché riesce a costruirti un trattamento previdenziale adeguato alla sfida soprattutto oggi di un sistema previdenziale che restituisce meno rispetto rispetto al passato voi sapete quanto noi insistiamo su una riforma del sistema previdenziale ma non è facilissimo anche perché con questi tassi demografici mettere mano al sistema previdenziale per quanto noi riteniamo che la sostenibilità sociale abbia un valore pari alla sostenibilità economica e come tale debba essere anche questo un oggetto di una riflessione bisogna vedere come fare bisogna palestrare il primo pilastro restituendo di più al lavoratore che dopo 40 sarebbe la pensione quella l'assegno classico tradizionale dell'ips diciamo anche un secondo pilastro e lì te la costruisci investendo il tuo tfr quindi lei ha detto opportunamente un tempo c'era la liquidazione oggi invece attraverso il fondo pensione investi il tuo tfr e alla fine del tuo percorso professionale ti porti a casa un trattamento previdenziale poi c'è da dire che la pensione complementare la pensione integrativa non è solo previdenza e anche anticipazione l'abbiamo visto se uno ecco spieghiamo se uno ha necessità di questi soldi un po' come la liquidazione se dovesse avere necessità per motivi di salute anche per motivi legati non so all'acquisto di casa eccetera può avere un'anticipazione assolutamente un caso emblematico è stato il periodo del covid quando il paese era fermo e che ci sono state molte richieste di anticipazione ai fondi e quindi si è capito come fosse importante avere aderito un fondo perché tra chi aveva la previdenza complementare e chi non l'aveva ha percepito veramente la differenza di poter affrontare le difficoltà di un periodo complesso come quello che abbiamo attraversato poi nella vita nella vita di un lavoratore di una lavoratrice di un uomo di una donna ci sono sempre dei periodi complessi e quindi questa è una garanzia in più che un lavoratore una lavoratrice si può costruire domande da casa subito maris ignazio ganga allora dobbiamo insomma rassicurare anche un po i nostri telespettatori c'è una telespettatrice che ci ha scritto prestissimo questa mattina dice ho sentito che un fondo pensione era legato insomma alla ferragni e poi viste le ultime disgrazie è andato perso e così anche le pensioni vuol sapere innanzitutto se è vero e quindi come rassicurare che questi fondi pensioni non siano come degli investimenti che possono sparire nel nulla ma guardi io sono vicepresidente di un'associazione a cui fanno dove i soci di questa associazione sono 32 fondi che appartengono pressoché a tutte le categorie merceologiche vale a dire sono lavoratrici e lavoratori che che investono il loro tfr io non so che fondo fosse questo sicuramente non era uno dei nostri 32 fondi che hanno finalità non speculative ma hanno finalità previdenziali molto serie poi peraltro ricordiamolo diciamo a casa questi fondi che sono appunto 32 sono tutte le categorie c'è un'autority che controlla no controlla tutti questi fondi sì 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 c'è la covip è un soggetto preposto dallo stato a ovviamente è un'autority che presidia sui fondi e che accompagna anche i processi i processi evolutivi dei fondi stessi perché la previdenza è una materia viva e come tale è bene che ci sia un soggetto che sovraintende anche al sistema dei fondi e questa è una garanzia prova ne sia che quando il legislatore la voleva eliminare siamo stati noi sindacati promotori il sistema delle imprese i promotori della previdenza complementare quindi le associazioni datoriali meglio che abbiamo fatto sì che questa organo di vigilanza non venisse del rubricato allora ha detto il segretario chiaramente è un'opportunità per tantissimi soprattutto per quelli giovani meno giovani attenzione che abbiamo detto sono controllati però è una scelta cioè chiaramente il lavoratore può scegliere tengo i soldi in azienda la mia liquidazione in azienda oppure le metto in un fondo ecco c'è un unico caso tra i fondi penso dove invece tutto questo è in automatico quindi il lavoratore se lo ritrova direttamente nel fondo stiamo parlando di un settore importante come quello dell'edilizia siamo in collegamento col direttore del fondo pensioni prevedi quindi il settore è quello dell'edilizia Diego Ballarin benvenuto direttore allora le chiedo qual è la particolarità vostra peraltro secondo me è anche una strada innovativa che potrebbe essere sviluppata per tutte le altre categorie tutti gli altri lavoratori potrebbero seguire questo vostro esempio ce lo spiega brevemente? Sì grazie buongiorno a voi innanzitutto in studio a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo e grazie per l'opportunità di portare il nostro contributo su questo tema così importante si prevede come diceva bene il fondo pensioni integrativo contrattuale del settore edile nella fattispecie legato ai contratti collettivi nazionali di lavoro e di l'industria artigianato e nel 2015 ha introdotto questa importante novità nel mondo della previdenza complementare che è il contributo contrattuale come lo chiamiamo noi automatico contrattuale perché deriva appunto dalla contrattazione collettiva e a carico del solo datore di lavoro e comporta come ben diceva l'iscrizione automatica di tutti i lavoratori edili al fondo pensione lo scopo chiaramente di questo istituto che inizialmente era una novità poi qualche altro settore ha iniziato a avvicinarsi a questo istituto e a replicare l'iniziativa ma lo scopo di questo istituto è proprio quello di introdurre i lavoratori non solo alla previdenza complementare come tradizionalmente si fa con l'attività informativa e comunicativa ma direttamente nella previdenza complementare creando per ciascun lavoratore una sia pur piccola posizione nel fondo pensione i lavoratori quindi una volta che vengono associati al fondo pensione attraverso questo piccolo accantonamento mensile continuo perché continua per tutta la loro attività lavorativa vengono poi contattati direttamente dal fondo pensione che offre loro informandoli debitamente e seguendo ovviamente in questa informativa le direttive della commissione di vigilanza sui fondi pensione offre loro l'opportunità di coltivare questa posizione e di incrementarla nel tempo attivando dei versamenti contributivi propri, aggiuntivi a quello contrattuale in modo tale che effettivamente la posizione previdenziale integrativa assuma quella significatività che servirà poi per supportare la pensione sommandosi a quella pubblica nel momento in cui questi lavoratori andranno appunto accederanno appunto alla crescenza direttore le chiedo allora quindi tutti quanti sono in qualche modo obbligati un minimo e poi bisogna fare dei contributi aggiuntivi quanti sono quelli che hanno aderito e quanto è importante proprio se ciò dice in un minuto quanto è importante l'adesione al secondo pilastro cioè oltre alla pensione tradizionale ci sarà bisogno di quest'altro gruzzoletto a fine carriera Sì, beh diciamo che per quanto riguarda l'adesione contrattuale è generalizzata quindi come dicevamo copre tutti i lavoratori del settore noi l'anno scorso nel 2023 abbiamo avuto 760 mila circa posizioni contribuenti chiaro poi il settore DIL è un settore un po' particolare caratterizzato da una elevata mobilità e quindi all'interno di questa mobilità si registrano contribuzioni più o meno continuative fenomeni di vario tipo insomma interruzioni, uscite, entrate eccetera dopodiché c'è il mondo di quelle che noi chiamiamo adesioni esplicite o volontarie di coloro che stanno integrando questa contribuzione essendo un istituto recente dal 2015 queste integrazioni hanno iniziato progressivamente a diffondersi e a crescere e diciamo verso la fine di quest'anno supereranno prevedibilmente gli 80 mila e andranno e continueranno a crescere su una media di contribuenti mensili che è intorno ai 450 mila, 500 mila quindi quello su cui misuriamo il passo di... Un bel numero, davvero un bel numero Un bel numero in crescita Grazie direttore perché i tempi purtroppo sono stringatissimi quindi grazie davvero per questo intervento abbiamo dato un'idea Diego Ballarin direttore del fondo pensione di Prevedi le chiedo segretario un'altra cosa importante lascio i fondi in azienda invece metto nel fondo pensione l'azienda qualsiasi azienda deve versare un contributo aggiuntivo quindi per i lavoratori sono più soldi l'1% in più è così? Assolutamente assolutamente c'è un'adesione quindi il trasferimento del TFR da parte del lavoratore c'è ovviamente il contributo del datore di lavoro questa è una cosa molto importante non è una cosa facilissima da far capire c'è poca educazione previdenziale e finanziaria in questo paese noi stiamo insistendo col governo sarebbe a costo zero di mettere in campo una grande campagna informativa istituzionale ma soprattutto vista la delicatezza e l'importanza di adeguare la pensione di primo pilastro di attrezzare per il paese un semestre di silenzio a senso minimo per favorire quanto più possibile l'adesione ai fondi complementari proprio perché riteniamo come forze sociali e produttive di questo paese che lo scenario pensionistico dei futuri lavoratori che hanno comunque carriere molto frammentate possa essere un futuro non adeguato alle aspettative di uno che conclude comunque un'esperienza professionale e su queste proposte è andato oltre il segretario quindi ha anticipato tutto e ci ha dato anche le proposte da parte del sindacato noi abbiamo scattato una fotografia torneremo sicuramente perché l'argomento è fondamentale per il futuro di tantissimi lavoratori e spesso viene sottovautato grazie davvero al segretario confederale della CISL Ignazio Ganga e come sempre ogni venerdì abbiamo la rubrica dedicata ai mercati vediamo dove è Giuseppe Pinetti oggi Buongiorno Giuseppe oggi mi trovo in Puglia e precisamente a Bari al mercato coperto di Santa Scolastica guardate com'è grande vorrei iniziare da un amico e da un prodotto che è la carne buongiorno Franco Giuseppe, ciao come andiamo? andiamo molto bene Franco allora tu mi hai dato appuntamento qua perché il banco è tuo ovviamente il mio punto vendita di carne allora la domanda che ti faccio è dimmi tre prodotti di carne che rappresentano un po' la cucina pugliese allora il primo prodotto della cucina pugliese è la famosa braciola che viene fatta dal cappello del prete o dalla falda è fatta in questa maniera ah questa è la braciola questa è la famosa tipico barese alla domenica che non dovrebbe mancare a tavola secondo prodotto? è chiaramente la famosa zampina fatto con vitello, suino viene messo formaggio, pomodoro impastato e viene messo tutto questo è l'arrosto della zampina molto bene continuiamo questa nostra carellata e concludiamo con? allora concludiamo con le famose bombette di Martina Franca, Cisternino tutta la zona della Valle d'Itria queste sono delle bombette modificate con un graninatura vengono gratinate ma devono essere fantastiche chiaramente è un prodotto che sta andando sulle bracerie ed è un prodotto che sta valorizzando tutta la Valle d'Itria allora Franco grazie se puoi appoggiare io ti chiederei la cortesia visto che ti trovo così preparato di accompagnarmi a conoscere anche un po' i prodotti tipici a livello di frutta e verdura però vorrei partire dalla regina delle verdure la regina delle verdure sono le cimdrap le cimdrap le cimdrap le cimdrap che vengono chiaramente fatte con la famosa tipica pasta pugliese che sarebbero le orecchiette le orecchiette le orecchiette che vengono strascinate fatte con il dito ora chiediamo permesso io vedo qua scusate signori grazie scusate vedo due tipi di verdure allora questa la conosco e sono i cetrioli il cetriolo il cetriolo che chiaramente adesso è il periodo del cetriolo però io qua vedo questo è un'altra tipologia della famiglia del cetriolo però si chiama scupatite scupatite sì è un cetriolo dolce saporito va accompagnato anche con delle belle cozze crude dopo che mangi le cozze chiaramente ti mangi questo e ti riporta di nuovo il palato a riassaggiare altra cucina visto che hai parlato di cozze e qui non facciamo in tempo oggi a parlarne la prossima settimana se sei d'accordo ci ritroviamo e parliamo di pesce perché Bari non si può parlare di Bari senza parlare di pesce del pesce maggiormente il pesce crudo che viene come un antipasto prima di iniziare il famoso pranzo domenicale molto bene Franco allora vorrei che noi ci congedassimo in questa puntata con un saluto barese perché visto che devo imparare un po' il barese senti ci sono tanti tipi di saluto c'è Awe Awe come ti saluto ci vediamo e altri saluti attualmente non mi vengono Giuse va bene allora però Awe Franco Awe ci vediamo ci vediamo settimana prossima la prossima settimana prossima settimana ok ok grazie 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 sempre a Giuseppe Pinetti ed ora come sempre ogni venerdì la rubrica dedicata ci avviciniamo all'Europa ed allora oggi per parlare delle politiche di coesione che cosa sono quanto sono importanti e soprattutto parleremo dell'artigianato insomma sono tantissimi l'Italia è la patria un po' dell'artigianato ne parliamo con il direttore della divisione economica della CNA una delle principali organizzazioni del settore dell'artigianato Claudio Giovine benvenuto direttore le chiedo innanzitutto quanto sono importanti queste politiche di coesione questi fondi questi finanziamenti che arrivano da Bruxelles per tutto il settore produttivo grazie innanzitutto le politiche di coesione sono uno degli strumenti fondamentali della politica europea da sempre ormai dagli anni 90 siamo al sesto ciclo di programmazione durano adesso sei anni e abbiamo sette anni abbiamo disposizione per questo settennato più di 70 miliardi quasi 80 miliardi di cui però una parte deve essere messa a disposizione dello Stato membro e questo è un elemento diciamo di complessità è uno dei tanti elementi di complessità sono importanti perché intervengono utilizzando diversi fondi che vanno a favore del sostegno dell'occupazione della formazione dell'infrastruttura degli investimenti l'ambito è molto vario e si articola con tanti livelli di responsabilità con programmi nazionali con programmi regionali e con programmi interregionali quindi come dire è un impianto estremamente articolato e complesso e questo rappresenta se vogliamo sia da un punto di vista è un punto di forza perché è in grado di disegnare e ritagliare gli interventi sulla base di quelli che sono i fabbisogni espressi dai singoli paesi in particolare dalle aree in ritardo di sviluppo ricordo che la maggior parte delle risorse vanno per quelle regioni che hanno livelli di reddito pro capita inferiore al 75% della media europea però al tempo stesso si scontra ripeto con una pluralità una complessità di gestione ecco direttore lei rappresenta gli artigiani la CNA in qualche modo che impatto hanno questi fondi questi finanziamenti sul mondo io dicevo fondamentale poi dell'artigianato perché l'Italia comunque ha tante attività artigianali lungo la penisola al nord al sud anche eccellenze da questo punto di vista come si sa la politica regionale è titolata degli interventi fuori dell'artigianato ragion per cui buona parte dei fondi che arrivano da Bruxelles in cofinanziamento con quelli nazionali poi vengono utilizzate le regioni per sostenere anche le attività produttive artigiane sotto il profilo del sostegno agli investimenti l'occupazione e quindi anche il costo per questo come dicevo è molto diversa per cui ci troviamo con regioni che hanno strutturato programmi sufficientemente diciamo organizzati e efficientemente gestiti altri invece sono più in rallentamento e questo fa sì che oggi esista un livello molto disuguale di utilizzo dei fondi di discontinuità dell'accesso per le imprese artigiane e gli strumenti e questi sono degli elementi sui quali peraltro anche il governo è rintervenuto proprio neanche un mese fa con un decreto che prova a ridisegnare il complesso dell'intervento a collegare i fondi europei con fronti nazionali a collegare i fondi strutturali politiche di coesione anche col PNRR che come è noto mette a disposizione una dose cospicua addirittura ben superiore di risorse che quindi devono essere integrate per fare in modo che gli interventi fuori anche dell'artigianato delle piccole imprese operino in continuità credo che gli elementi su cui bisogna puntare sono sicuramente una facilità di accesso cosa che non sempre è garantita continuità negli strumenti e mantenimento nel tempo delle procedure e invece purtroppo queste tendono a cambiare repentinamente anche adesso col decreto si disegnano interventi per riduzione del costo del lavoro con decontribuzione e sostegno di investimenti che però durano per un arco temporale estremamente breve il che rende incerta la capacità poi dei soggetti in particolare più piccoli di potersi avvalere appieno del potenziale di questi strumenti ecco lei ha detto il primo punto è quella della facilità di accesso quindi la semplificazione quale dovrebbe essere un percorso più semplificato per far sì che il piccolo artigiano l'attività produttiva possa avvalersi di questi fondi di questi finanziamenti nella gestione vengono individuati dei soggetti tipo Invitalia tanto per citarne uno che hanno responsabilità poi di individuare gli strumenti o in alcuni casi le regioni attraverso strumenti propri bene in questo caso è importante che le regole siano chiare che le regole siano stabili e che i procedimenti siano assolutamente certi una volta che l'impresa abbia requisiti previsti poi il percorso che determina il riconoscimento del diritto l'erogazione del contributo sia quanto più questo purtroppo non è così questo è l'elemento diciamo più critico in termini di utilizzo e insisto la non continuità del funzionamento degli strumenti e far sì che questo non rappresenta un elemento di certezza su cui l'impresa possa contare nella programmazione gli investimenti e l'occupazione ma diventa un elemento aleatorio che è l'elemento maggiore di buolezza direttore un'ultima battuta le chiedo sulla questione della burocrazia dicono tanti che la burocrazia frena un po' il lancio il rilancio anche di questi finanziamenti è davvero così per voi? più che la burocrazia è la cattiva burocrazia la burocrazia lenta quella inefficace quella inefficiente dove si annidano peraltro anche la possibilità di un intervento diretto da parte dei gestori noi crediamo in strumenti in cui le regole definite possano essere utilizzate in maniera il più possibile automatica selettiva ma automatica si definisca esattamente che cosa e si dia poi automatico accesso ai soggetti che hanno i requisiti per appello grazie grazie davvero al direttore della divisione economica della CNA e l'organizzazione degli artigiani Claudio Giovane come sempre la sigla finale dell'Europa ed allora abbiamo giusto il tempo di salutare i nostri telespettatori e di augurare un buon fine settimana vero Maris? esattamente ricordare veramente questo fine settimana di rimanere conosci con noi scaricando l'applicazione gratuita Play 2000 potete rivedere qualsiasi contenuto gratuitamente basta scaricarla grazie a tutti quanti voi sereno fine settimana tutti quanti a casa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.